Ansia da prestazione, come combatterla? Sono Filippo Ongaro. Capita nella vita di tutti noi di dover affrontare la cosiddetta ansia da prestazione. L'abbiamo vissuta in varie situazioni, da quelle scolastiche a quelle lavorative, a quelle personali, relazionali, con l'altro sesso. In ogni situazione può essere che subentri uno stato d'ansia e di dubbio sulle proprie capacità. E' piuttosto normale che accada, però ci sono delle situazioni, ci sono dei soggetti in cui questa cosa diventa molto più problematica. Cioè non si tratta semplicemente di un disagio transitorio che a volte è addirittura utile per dare il meglio di te, ma diventa veramente un impedimento che porta anche come dire a frenare in un certo senso e a tirarsi completamente indietro dalla dalla sfida e e probabilmente, sicuramente, non avere lo stato d'animo adatto per dare il meglio di noi. Quindi l'ansia da prestazione a volte diventa un problema. Ecco, in quel caso sarebbe un po' è un po' importante cominciare a fare un passo indietro e capire quali sono i meccanismi che la stimolano e quali sono le modalità d'azione che possiamo adottare per uscirne. Il primo meccanismo che mi viene in mente parlando di ansia da prestazione è un desiderio eccessivo di perfezione che è irraggiungibile. In genere, chi soffre di ansia da prestazione non si accontenta, vorrebbe sempre dare il meglio, vorrebbe sempre dare il massimo, vorrebbe sempre essere perfetto e, proprio perché ha questa ambizione estremamente teorica, poi, in realtà, subentra un freno forte, emotivo, perché lo standard a cui vuoi arrivare è assolutamente sproporzionato e troppo alto. Connesso con questa tendenza al perfezionismo c'è la totale incapacità ad immaginarsi il fallimento. Questi, in genere, sono persone che non solo vogliono la perfezione, ma non concepiscono che sia possibile fallire e, invece, purtroppo, ogni sfida, per quanto ci possa dare fastidio, per quanto dobbiamo cercare di non fallire, però ogni sfida deve anche essere concepita come un potenziale fallimento, altrimenti non sarebbe una sfida, altrimenti non usciremmo mai dalla nostra zona di comfort. Ecco, queste sono persone che hanno una grande difficoltà a gestire l'idea del fallimento, non sono familiari con il fallimento, non lo capiscono, non lo concepiscono, non lo vogliono guardare negli occhi. Ovviamente, connesso con questo, c'è il terzo punto di partenza, che è una incapacità a gestire il giudizio degli altri. Quindi, non solo hanno degli standard alti di partenza, a volte irraggiungibili, non solo non concepiscono il fallimento, ma sono terrorizzati di perdere l'approvazione di qualcuno, di essere visti sotto una cattiva luce, e quindi il giudizio degli altri è una cosa che, ovviamente, li frena moltissimo. Diciamo che, alla base, se dovessimo riassumere questa situazione, alla base c'è un po' la mancanza di autostima da un lato e l'eccessivo desiderio di conferme dall'altro. Cioè, queste sono personalità che non partono da una grande stima in se stessi e sono un po' spinte ad avere conferme, ad essere giudicati in maniera corretta, più che ad appagare le loro reali motivazioni. E sono anche persone che, nel corso della loro vita, in genere, non sono state esposte a grandi fallimenti. Non voglio essere offensivo, perché non è certamente il mio intento, ma sono un po' persone che spesso hanno vinto facili, cioè hanno avuto la strada abbastanza spianata nella scuola, nelle relazioni, e dunque, quando subentrano delle sfide che sono in qualche modo nuove, perché percepiscono che non che non è tutto così semplice, lì crolla un po' quella base di certezza. Allora, tre semplici cose per provare a iniziare a reagire a quest'ansia da prestazione. Allora, il punto numero uno è che vanno aumentate le esposizioni, cioè contrariamente a quello che uno può pensare, devi avere la forza, il coraggio di esporti di più a sfide, di esporti così tanto che a un certo punto anche il fallimento stesso non ti farà più tanto paura, perché sei abituato che una cosa funziona e una cosa non funziona, quando una di queste non funziona ti muovi verso una prossima sfida, oppure ti adatti per trovare il modo di vincere quella sfida. Punto numero due riflettere sugli obiettivi. Ossia se rifletti bene sugli obiettivi ti accorgerai che probabilmente la perfezione la vuoi solo tu e non gliene frega niente a nessun altro di quella perfezione. Gli altri guardano ad una realtà operativa, gli altri guardano che le cose vengono fatte, gli altri guardano che ci sia un progresso. In genere lo standard della perfezione è la persona stessa che se lo mette in testa, non sono gli altri. Quindi se riesci a diventare più obiettivo, più distaccato sullo scopo che hai, ti accorgerai che questa ossessione verso la perfezione è un prodotto della tua testa. Punto numero tre, come spesso suggerisco, scrivere. Perché se davanti all'ansia della prestazione, tu riesci veramente a cominciare a essere più distaccato, più oggettivo sulle cose, a scriverti anche spunti e idee su situazioni simili che hai affrontato, dove hai funzionato bene. Cioè se cominci a ad analizzare veramente la situazione, non solo a sentirla sul piano emotivo, ecco che ti accorgerai anche lì che riesci ad acquisire maggiore obiettività, maggiore distanza, e che non c'è tutto questo pericolo dato dal giudizio degli altri, dalla paura del fallimento, ma non sarà perfetto e automaticamente questa realizzazione toglierà un po' di questa tensione, un po' di quest'ansia e sfida dopo sfida, appunto aumentando di esposizione, sarai in grado di trasformare quello che è un limite in invece una bella risorsa. Il fatto che un pochino di tensione la senti, è una cosa positiva perché ti porta a dare il meglio di te.